Il club è l'APN perché sono società che alluniscono tutto il salire anche perché hanno potenzialità, perché comunque ha un presidente spettato, ci sarà una concorrenza forte, la stessa reggiana, perché comunque la prima reggiana va a avere un lavoro con i volontari, quindi ci sarà una concorrenza forte. Cremollone che per molti anni sta lì, sta lì ma ha speso tantissimo odio e purtroppo la gerunga sulla sicilità che è la lega trova. È vero che Gironi...